I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania insieme ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato 80 capi di abbigliamento contraffatti provenienti da Casablanca nell'ambito degli ordinari controlli svolti presso l'aeroporto Fontana Rossa di Catania. I militari hanno sottoposto a ispezione un passeggero marocchino di rientro dal suo paese con volo proveniente da Casablanca che trasportava nella valigia confezioni di capi di abbigliamento contraffatti. Nel bagaglio da stiva, i finanzieri e i funzionari delle Dogane hanno rinvenuto 80 capi di vestiario che riproducevano marchi e loghi di note griff internazionali. I prodotti, di ottima fattura e tali da ingannare gli acquirenti sulla reale provenienza illecita, sono stati sottoposti a sequestro e il cittadino straniero, residente nel territorio italiano, in provincia di Siracusa, è stato denunciato a piede libero all'autorità giudiziaria etnea per illecita introduzione nel territorio dello Stato di merci contraffatte.